Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su FIFA 18 sulla malità carriera e dobbiamo andare a affrontare Foggia Foggia che giocheremo con tutti i giocatori titolari assolutamente perchè la vittoria è fondamentale dato che dobbiamo staccare le altre squadre allora Belloni vorrebbe giocare visto che siamo contro la no, sest'ultima direi che Belloni può anche giocare possiamo dargli una chance, un'opportunità no, come dire quindi lo metterei a posto di un concas addirittura stanco quindi ci va anche bene poi Belloni è 62 mi sa che non l'ho mai provato questo Belloni non l'ho mai provato vediamo come rende a sto punto e niente, andiamo a giocarcelà così dovrebbe essere una partita abbastanza facile sulla carta ma sappiamo che la carta a volte sbaglia quindi dobbiamo impegnarci e anche tanto perchè io temo sto Foggia perchè si sa che in Serie B e in Serie A ma nel calcio in generale ogni squadra va temuta ecco qua Bakogu capocannoniere mi ci ricordano della regia e chissà se oggi timberai cartellino in Bakogu speriamo bene su tomecchiori sul niveau dell'azione allora capella goccia Bakogu Belloni Belloni vai fammi vedere cosa sai fare dichiara e chiorri Bakogu goccia goccia ah guarda ci arriva subito ottimo Carbi si Carbi oh mio dio Carbi subito spigliato nel vivo dell'azione allora Baie goccia si gira molto bene Bakogu Belloni ah si è infilato bene Belloni ma purtroppo il difensore è riuscito a prenderla Foggia in attacco attenzione Kragl aia aia Baie Berretta attenzione Foggia che ci prova in questi tre minuti non si fa arrendevole quindi non sarà facile come avevo già detto poi no vuoi passare a goccia vabbè va bene lo stesso pazienza dai non distraiamoci potrebbe essere da rovina distrarsi vai è bravissimo goccia Bakogu McHiorri Bakogu McHiorri goccia come giocano ma goccia goccia attenzione goccia vuoi far gol oggi molto molto propositivo per gli ospiti parlano i numeri i gol si assegno fino a questo momento dal loro attacco che è il migliore del campionato ienici i loro attaccanti goccia McHiorri Makogu Belloni dichiara ho perso il conto dei passaggi molto bravi qui fanno correre a vuoto i riflessori niente da fare dai carapai tieni fedato niente mazzeo mazzeo bravo capela belloni mbaie bravo McHiorri subito ienici ienici altro che garrità non è comunque ovvero minore ma più forte belloni però purtroppo il tiro è veramente nella scadenza bruttissima però vabbè però ci ha provato il nostro belloni goccia goccia può fare un numero ma purtroppo non gli viene bene però caccio d'angolo ragazzi caccio d'angolo batte ienici in Bacogu non ci arriva poli goccia goccia fisico purtroppo goccia è carente questo bisogna lavorarci un po' bravo goccia goccia il foggia comunque si difende molto bene devo dire la verità non me l'aspettavo ottimo foggia per il momento l'ho detto che ogni partita è una storia a sé niente è facile nel calcio ai 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 fedato ormai riusciva a far gol baie goccia bravo belloni bravo belloni perfetta per goccia goccia noo ienici eh vabbè buonanotte la palla entra attenzione forse è una roba assurda ienici comunque vabbè è stata bellissima questa cosa qua bravo capela baie baie tieni il mazzeo bravo poli mecchiordi belloni no belloni ti ho dato fiducia non mi da non mi fa queste cose vai e tiello bravo in bai che lo aspetta però caccio d'angolo per il foggia oh partita comunque equilibrata onore a foggia che sta accendo una parità che non mi aspettavo dire la verità makogu goccia bravo per dichiara baie mecchiordi goccia makogu belloni fallo su belloni makogu ma che tira makogu veramente migliore goccia 59 capirai vabbè proviamoci va goccia vabbè troppo lenta ma si stava arrivando in porta con un po' d'effetto warner in via ah goccia bravo baie bakogu makiorri nessuno si muove bakogu niente camporese chiude la la linea di passaggio e si riparte dall'innessa laterale allora goccia bravo mecchiordi come si gira però il portiere para para molto facilmente questo cioè questo gira a me è stato bellissimo comunque goccia ienici ienici attenzione belloni prima da titolare primo gol di belloni attenzione che soddisfazione per sto ragazzo che soddisfazione è arrivato ienici è forte ienici ma che tuffo che ha fatto belloni grazie belloni mi ha dimostrato che ho fatto bene a mettiti in campo e darte fiducia sono molto contento guardate ragazzi bellissimo bellissimo proprio lui proprio lui proprio lui se la sentiva dentro si vedeva ahia mazzeo brunelli c'è mbaie goccia mechiordi bakogu bakogu va goccia goccia si smarca no non si smarca bene però molti errori di goccia oggi comunque scaglia ragazzi bravo ienici bravissimi 1-0 buona prestazione anche se foggia ci sta dando tantissimi problemi e sta cosa non me l'aspettavo se devo essere sincero proprio pensavo fosse stata una parietà di scioltezza così invece bravo foggia bravo foggia mechiordi ora cerchiamo di dare la botta finale a sto foggia che basta non posso aspettare l'energia con foggia ragazzi veramente makogu goccia ienici ienici mechiordi si gira ma guarda c'è si è ancora giato molto bene mechiordi baie no passaggio sbagliato era buona idea ma il passaggio è proprio zero vai belloni ma greco c'è bravissimo belloni calcio d'angolo jenici belloni guarda para attenzione belloni non è ancora contento non è ancora sazio questo è lo spirito che mi piace palla nostra belloni carapai embaie jenici dichiara bello che stop makogu camporese c'è la camporese difesa è forte sta giocando bene makogu attenzione no rimbalza male la palla mechiordi non ci arriva belloni non c'è nessuno però ragazzi veramente non c'è come fare se c'è nessuno in mezzo qui è una coppa di belloni eh raga cioè per vostro non siete c'è il tocco sulla fascia gocci mechiordi eh mechiordi è dentro è stanco forse anche un po' jenici jenici magazzi intercetta di partenza bravi magazzi bravissimo stato eh evitare gocci vai belloni gocci bakogu vai jenici vai jenici che stop l'hai visto belloni floriano calcio d'angolo dai jenici melchiorri guarda ci arriva ancora cala pa jenici gocci 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 bella gocci melchiorri che botta di poco sopra la traversa che assene di melchiorri ha fatto un tiro bellissimo calapai belloni bakogu gocci gocci c'è nessuno che si smarca in attacco belloni stanchissimo belloni belloni si fa spostare però stavo per tirare peccato baie bakogu bravo bakogu jenici l'hai visto jenici cosa jenici 2-0 carpi jenici 2-0 grande ma che prato aveva fatto il portiere ma che roba assurda che aveva parato mamma mia che cavolo questo doveva entrare che cazzo cioè fosse una parata da madonna guardate qua che robe bellissima parata cioè bellissima jenici è il sesto gol in campionato esterno molto prolifico che se posso mi porta anche in serie A lo dico perché mi piace un casino sto esterno bravo poli gocci baie bakogu melchiori lo vede ancora jenici mamma mia tutto campo io ho la qui jenici mara lì mamma mia città di peso proprio bravo gocci bravo gocci eh ma è chiuso gocci ancora un quarto d'ora per la speranza delle due squadre recupera il pallone con un intervento capela poli baie gocci bravo per gli enici attento qui il difensore che allontana belloni belloni bravissimo baie ma come giocano peccato per il tuo passaggio che non deve essere proprio lungo però giocano di io cosa fa in baie no poi gioco bravissimi bravissimi 2 a 0 comunque sembra facile ma è stato difficilissimo niente ma la nostra difesa è impazzita dai che forse riusciamo a subire 0 gol dai sarebbe una bella cosa forse brunelli non riesco uscire non riesco uscire bravo carapai gocci ienici mechiorri per ienici attenzione gocci belloni ma cogo ho fatto un assist di merda a belloni però passaggio bruttissimo di belloni eh bravo ienici che cuore ienici bakogu bakogu no guarna cosa ha parato chi ha parato guarna mamma mia mamma mia incredibile io l'avevo già vista dentro occhio al carter mazzeo pallone spazzato via bene dalla difesa poli ienici saranno due minuti di recupero come indica chiaramente il quarto uomo bravo carapai bravissimo finita così 2-0 per il carpi buono dai non abbiamo neanche subito un gol finalmente da un po' che non subiamo un gol davvero da un po' la squadra c'è e stiamo procedendo veramente in maniera perfetta sono molto contento di questa squadra e di come si sta comportando non poto chiedere di meglio guarda allora colloquio Belloni sarà contento ha apprezzato molto la disponibilità a farlo giocare andiamo a allenare i giocatori e poi andiamo a chiudere l'episodio intanto siamo a più ancora più no no più 7 ancora della Spezia che ha vinto sta partita Spezia che comunque sta tenendo la botta seppur noi le vinciamo quasi tutte Brunelli intanto aumenta 64 ottimo Brunelli ottimo minca poi 65 Brunelli sta aumentando abbastanza va bene ragazzi per oggi è tutto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi